La Camera al terzo piano del Policlinico è pronta da giorni per accogliere Luana Inglaro, ma rimarrà vuota almeno fino a dopo Natale. La nostra disponibilità rimane immutata, afferma il nuovo comunicato della Casa di Cura Città di Udine, che auspica un rapido e definitivo approfondimento sulla direttiva Sacconi con il chiarimento degli ambiti di competenza di Regione e Ministero, in quanto, si legge, la Casa di Cura deve agire in un quadro di certezze e garanzie. Intanto il caso della giovane in coma vegetativo da 17 anni rischia di aprire un nuovo fronte politico, stavolta interno alla Regione. L'Udc, attraverso il segretario Angelo Compagnon, chiede alla Giunta Tondo un atto formale contro l'eventualità che Luana venga a morire in Regione, altrimenti, prosegue Compagnon, apriremo la crisi. Una presa di posizione che coglie di sorpresa gli alleati. La Lega Nord, pur contraria all'ipotesi che il Friuli Venezia Giulia ha ospiti gli ultimi giorni di Eluana, ricorda che Tondo, nella sua dichiarazione di ieri, ha già preso le distanze. Quella del padre è una scelta autonoma, ci spiega Pietro Fontanini. Non siamo stati noi a invitarlo. Anche per il senatore Giovanni Collino le parole di Tondo sono già una risposta esplicita, perciò Alleanza Nazionale rivolge un appello all'Udc a considerarlo un capitolo già chiuso. Il Popolo della Libertà, attraverso il coordinatore Isidoro Gottardo, si richiama alla Carta dei Valori Costitutiva della coalizione che sostiene Tondo, ritiene esaustiva la dichiarazione del governatore e riconosce un vuoto legislativo in materia. A Udine, per l'intera giornata, l'associazione Luca Coscioni ha avviato una petizione a favore del testamento biologico e sulla vicenda intervengono anche i sindacati della provincia di Udine, CGL, CISL e UIL, che si schierano accanto alla famiglia Inglaro e sperano che Eluana possa essere accolta in Friuli senza clamori assordanti.